Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Secondo il manager Flavio Briatore, da poco rientrato nel mondo della Formula 1 con l'Alpine, Spalletti non ha creato un gruppo saldo per poter avere successo in questi europei. Briatore ha criticato aspramente la prestazione dell'Italia, definendo i giocatori impauriti e privi di personalità durante le partite. Per lui accettare una sconfitta è normale, ma la mancanza di determinazione e la reazione dei giocatori alla fine delle partite sono considerate inaccettabili. Briatore ha elogiato solo Donna Rumma per i suoi miracoli in campo, sottolineando che senza di lui l'Italia avrebbe subito pesanti sconfitte. Il manager ha criticato duramente l'allenatore Spalletti, definendo la sua gestione della Nazionale come il più grande disastro nella storia del calcio italiano. Briatore ha espresso perplessità sulle scelte di formazione di Spalletti, sottolineando una presunta arroganza nel suo approccio. In merito agli allenatori della Nazionale, Briatore ha commentato anche Mancini e il cambiamento avvenuto dopo la sua partenza. Ha elogiato la decisione di Mancini di lasciare la squadra dopo aver capito il livello attuale, evitando ulteriori figuracce. Secondo Briatore, il vero volto del successo per l'Italia ha un nome e cognome, Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus è considerato da Briatore come il candidato ideale per guidare la Nazionale, grazie alla sua esperienza e alla capacità di far giocare la squadra seguendo lo stile tradizionale italiano. Briatore ha sottolineato di aver parlato con Allegri, il quale ha condiviso la sua visione sul gioco della Nazionale.